Il bacino del Mediterraneo continuerà ad essere sede di depressioni dal carattere freddo, perciò proseguirà un tempo variabile a tratti anche instabile o localmente perturbato. Le temperature si manterranno sotto le medie del periodo in considerazione. Domenica 18, parzialmente nuvoloso-nuvoloso su tutta la Calabria, con piogge isolate possibili un po' su tutto il territorio regionale, deboli nevicate e probabili in alta montagna. 20 moderati dai quadranti sud-occidentali tententi a disporsi da ponente e ovunque in serata, ma ritutti mossi, temperature stazionarie. Condizioni improntate al brutto tempo, anche per lunedì 19 aprile, ancora possibili piogge sparse e rovesci un po' dappertutto, probabilmente più persistenti ed intensi al mattino sul Tireno Cosentino. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appunto avendo il prossimo aggiornamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.